Musica Auguro che la Lega e soprattutto i Finiani si neanche conseguenti perché finalmente oggi anche nella maggioranza c'è qualcuno che sulla via di Damasco ha riconosciuto quel che da sempre dice l'Italia e i Valori Berlusconi ha impoverito il Paese, ha umiliato le istituzioni ha ridotto gli spazi di democrazia e allora che sia sfiduciato Berlusconi ma non per la furbizia della Lega e non per lo scopo furbo che vuole la Lega ma perché proprio dobbiamo liberare il Parlamento, il Paese e le istituzioni da questa gricca pituista C'è da augurarci che questo governo su questo tema almeno su questo tema venga messo in minoranza per questo nella mozione di sfiducia che presenteremo per mandarlo a casa chiederemo espressamente che una delle ragioni per cui questo governo non merita al governo Berlusconi di stare dove sta a cominciare dal Ministro Gelmino è proprio l'umiliazione che ha portato nel mondo della scuola sul piano didattico, sul piano formativo e sul piano finanziario perché gli ha tolto proprio il pane da bocca Almeno un atto di giustizia prima di andare a casa dopo che ha umiliato l'istituzione ha impoverito il Paese per arricchire la gricca il governo Berlusconi e i suoi lo può fare restituire i soldi che ha rubato alla scuola gli 8 miliardi che ha rubato alla scuola e ridare dignità a quegli insegnanti che precari da una vita stanno cercando di insegnare ai giovani il loro futuro ma purtroppo hanno perso il loro presente nella famiglia e nella scuola Grazie a tutti